Giornata di saluti e ringraziamenti da parte del questore di Taranto nei confronti di due dirigenti che dal prossimo 5 settembre ricopriranno nuovi incarichi. Arrivati quasi insieme a qualche mese di distanza nello scorso 2020, Fulvio Manco, dirigente della squadra mobile, assumerà la direzione del compartimento di polizia postale delle telecomunicazioni Puglia con serie Bari. Francesco Salmeri, a capo della Digos Ionica, diventerà dirigente della sezione di polizia stradale di Taranto. La squadra mobile è il cuore dell'attività di polizia. A Taranto c'è stato tanto da fare come riassume questi anni di lavoro. Sono stati anni intensi, ricchi di soddisfazioni, pieni di emozioni, anni in cui abbiamo instaurato un rapporto meraviglioso con la città e con la provincia. Abbiamo affrontato ogni tipologia di reato con l'autorità giudiziaria distrettuale di Lecce e con la procura ordinaria. Sicuramente due anni molto intensi perché la polizia di prevenzione qua su un territorio molto vivace si è occupata di aspetti i più diversi, quindi dalle componenti relativi allo stadio, agli ultras, a quelle che sono state le campagne elettorali che si sono succedute nel periodo in considerazione. È un po' più oscuro il lavoro tipico nostro della Digos di informazione e di supporto in termini di intelligenza, a quelli che sono i profili dell'ordine della sicurezza pubblica.